Andrea Balic, nuova gara da titolare dopo la prestazione col Cagliari, però una partita decisamente diversa, anche perché l'Udinese ha cambiato modulo. Come ti sei trovato all'interno di questa nuova formazione scelta da Mr. Oddo? Sono trovato bene, perché per me non si cambia niente, perché gioco avanti a difesa, come 4-3-3, come 3-5-2, però per tutta la squadra è cambiato molto. Oggi siamo giocati bene per me, siamo giocati come una squadra, tutti insieme, tutti avvicini, tutti compatti. Solo il risultato non è bene, però Napoli è una squadra forte, non è tirata una volta in porta, solo un rigore e un gol. Perché noi siamo contenti, perché siamo giocati una buona partita, avanti così e il resto. È un vero peccato che sia arrivato il gol su quell'episodio del rigore, perché come dicevi è stata veramente una delle pochissime azioni concesse a Napoli, una delle squadre che gioca forse il miglior calcio in Italia e tra le migliori in Europa. Sì, ho detto, Napoli è una fortissima squadra, però noi siamo preparati bene questa settimana con un valentore, siamo preparati come attacchiamo, come facciamo fase difensiva e questo è il risultato. Adesso però arrivano squadre contro cui l'Udinese se la potrà giocare, c'è la Coppa Italia, c'è la trasferta di Crotone, che non sarà facile, però è una squadra contro cui si possono provare a portare via punti. Deviamo, non possiamo, deviamo. Guarda, prepariamo bene, continuiamo così, avanti così, testa alta. Giovedì è Coppa Italia, guarda, dobbiamo vincere anche giovedì, anche Crotone, però primo qua, giovedì e poi vediamo.